Sono Mimmo Mignano, sono uno dei cinque operai della FCA di Pomigliano. Siamo qui a Sanremo perché tutt'altro ci siamo accorti di partecipare anche noi, essere partecipanti al Festival di Sanremo. Siamo stati qui, siamo partiti ieri sera da Pomigliano, perché per noi era giusto ringraziare il gruppo musicale, lo Stato sociale che ci ha messo i nostri nomi sulle loro giacchette, hanno parlato della nostra storia, ha avuto un risalto nazionale. Noi siamo qui perché vogliamo dire la nostra su questo. Noi siamo stati reintegrati con una sentenza da un giudice dal Tribunale della Corte di Appello di Napoli, abbiamo avuto il reintegro due anni fa e per due anni la FIAT ci tiene fuori a salario pieno. Questo non è giusto. Nella canzone loro richiamano la vacanza forzata. Sì, noi stiamo in vacanza forzata. Noi vorremmo riacquistare, riprenderci la nostra libertà sia politica che sindacale. La FIAT ha paura di farci entrare e ci siamo accorti che qua nessun partito rappresenta gli operai. Cioè il fatto che un gruppo musicale mette a nudo la questione operaia e tutti da i giornali che ci chiamano ha fatto rumore e il fatto che non c'è una rappresentanza, il fatto che un gruppo decide di mettere a nudo la nostra storia per noi è un fatto importante. Siamo qui a rivendicare questo. Con quelle targhette, con i nostri nomi, è stata una grande rivalsa nei confronti di chi crede che i lavoratori siano schiavi e devono essere precari. Noi a queste cose non ci crediamo. Vogliamo ritornare in fabbrica perché vogliamo stare con i nostri amici, vogliamo stare in fabbrica a lavorare. A queste cose non ci stiamo e lottiamo. E fanno bene i compagni a lottare anche con la musica perché in qualsiasi modo si lotta si può vincere. Sì, oggi ci siamo incontrati con questi cinque meravigliosi artisti che hanno avuto il coraggio di mettere in luce la storia di cinque operai che hanno vinto una causa e la corte di appello di Napoli che hanno vinto dopo tanti sacrifici, con dure lotte. Questi ragazzi hanno avuto il coraggio di raccontarla questa storia nella loro musica. Noi non ci fermeremo, continueremo a lottare. Sarebbe anche una vittoria nostra, un in bocca al lupo e votiamoli.